Bella ragazzi, iscrivetevi a FizzGamer con enfasi Con furore e con euforia Siamo tutti molto euforici Non ci vedo niente Ragazzi sono veramente euforico Sono veramente euforico, oggi è Diciamolo a tutti, è giovedì 6 aprile Sì è vero è 7 aprile Sono giovedì 7 aprile E' il primo giorno di Romics e noi non ci andremo Perché oggi andremo a registrare delle challenge con l'auricchio E con... Uno di noi due si è buttato in piscina Uno di noi due si è buttato in piscina Uno di noi due Quindi signori ci vediamo dopo Bella Ciao! 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 Signori bentornati sulla live di Federico Marconi Lasciate like Iscrivetevi Video in video Ciao! 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 Grazie a tutti Raga, questo è i Romics Ci becchiamo dentro Di cosa ne pensi di questa piera? La stagia registrata Ah ok Ma c'è stata tanta gente, sono già stato Sono venuto a 2 ore, sono già stato Bello Bella raga Allora signori noi siamo in hotel Nell'hotel di Fuse Gamer Perché dobbiamo andare a cena stasera E ci abbiamo messo un'epocaia di tempo Per arrivare fino a qua Siamo usciti alle 6 dalla fiera E ora siamo qua Ora che ore sono, aggiorniamo il nostro pubblico Le 20 e 19 E adesso Dove sarà Fuse Gamer Andiamo insieme Credibile Credibile Allora questo è il titolo del prossimo video di Fuse Gamer Sì giustamente sono d'accordo con me la prima Pessima stanza, pessimo hotel Credibile Cioè ragazzi veramente è una roba brutta Alla fine? Sì ci ha fatto real capolina quando invece siamo passati qua 45 minuti fa Ma infatti lo stavo dicendo Comunque signori Noi andiamo a cena? Ci rivediamo poi Non sappiamo manco dove però Però vabbè dettagli, bella raga Giorno a tutti Oggi che giorno è? Sabato Sì E Forse E siamo stanchi Tu sei stanco Non si dire che per i tuoi capelli Lo sai? Eh l'occhiale e i capelli Sono gli ultimi estaggi insieme Sono coperture per non far capire che sto dormendo Ah ho capito Io Io penso si veda dalla faccia Sì E ci rivediamo a Ramix No 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 Ciao Siamo qui con ViewsGamer24 E abbiamo il pass Ma non è finita qui signori Ce ne vedremo delle belle Ce ne vedremo delle belle Ragazzi siamo qui a Romix E niente volevo dirvi che è successo qualcosa di storico Perché mi sono diventato A me è importante Che oltre al braccialetto di Vimove Hanno anche messo il mio canale Come ben vedete Cioè in realtà non lo vedete Lo vedete adesso Sui compiuti di Tom Sardware Quindi il problema è che Io ho il braccialetto di Vimove E il mio canale è a Tom Sardware C'è un bordello incredibile Che non ho voce Bella raga Allora Signore Siamo in pizzeria No è vero È sabato È una gelateria È una gelateria È una gelateria È una gelateria Da sport Siamo i Magnifici 3 No Sono 4 È una serata complessa Perché vi spiego Io ho preso una pizza con le salsicce Ma in realtà volevo la diavola Lui Lui ha preso una capricciosa Ma in realtà voleva una diavola Ah no io volevo la Taglia taglia Io Dicevo Non ho ancora bevuto Io volevo una Quattro formaggi E ho preso una Non la mia salsicce Lui voleva una diavola Lei ha preso la capricciosa Lei invece voleva Quello che ha preso E quindi Questo per dirvi che è stata una grande giornata Non è che siamo stanchi Io non sono stanco Non sono stanco E quindi a domani Bella raga A domani Io vorrei No, 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 no. Grazie, guardate un po' chi è venuto a trovarci. Il canale, è proprio lui, Yas. Yas, il TM. No, no, adesso lo tolgo, TM, perché mi ha andato il po'. Per grafica, prezzi bassissimi, passate in descrizione, c'è il canale di Yas, incredibile. Per quanti mesi, piccinini? Per 157.232 anni, 42 giorni, 52 ore, 13 minuti e 28 secondi, virgola 13 millesimi. Pazzesco. E' finita così, portate che io mi riporto questo a casa. E quindi ragazzi, che dire, a dopo. A me non si sentirà un po'. A me non si sentirà un po' chi è venuto a fare 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 un